Terremoto oggi in Emilia-Romagna, tra Modena e Reggio Emilia Due le scosse avvertite La prima, della durata di 3-4 secondi, pochi minuti prima delle ore 20, è stata registrata con una magnitudo 4. È stata avvertita distintamente dalla popolazione anche in molte aree limitrofe, fino nelle zone di confine di Lombardia e Veneto. Non si segnalano danni, al momento. Intorno alle 21 è stata registrata una seconda scossa, più forte, con magnitudo 4. 3. In provincia di Reggio Emilia L'epicentro a Correggio ha una profondità di 6 chilometri. Molte persone sono uscite di casa e si sono rivelate in strada in città in vari centri abitati, compreso il capoluogo. Al momento la sala operativa dei Vigili del Fuoco sta ricevendo molte chiamate per richiesta di informazioni. Ma non sono pervenute segnalazioni di criticità. L'invito alla popolazione è quello di non chiamare numeri di soccorso per informazioni, ma lasciare libere le linee per le emergenze. Nella notte, la protezione civile, con i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine, effettueranno i necessari controlli. Dieci anni fa, una devastante serie di scosse sismiche, passate alla cronaca come il terremoto dell'Emilia del 2012, provocarono in tutto 27 vittime. L'intensità massima dei terremoti, stimata come cumulo degli effetti della sequenza, è pari al grado ottavo della Scala Mercalli. Da allora la ricostruzione ha seguito stretti criteri antisismici. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha calcolato e diffuso i dati sul terremoto, stabilendo che il primo sisma registrato ha avuto una magnitudo 4, con epicentro a 4 km da Bagnolo in Piano, comune in provincia di Reggio Emilia, e profondità 7 km. Le altre città vicino all'epicentro della prima scossa di terremoto sono State, Correggio, 5 km, San Martino in Rio, 7, Rio Saliceto, Sorriso, Novellara, Sorriso, Campagnola Emilia, Sorriso, Cade il Bosco di Sopra, 10. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o a cose. A seguire ha segnalato una seconda scossa più forte, registrata alle 21, di magnitudo 4, 3, con epicentro a 3 km da Correggio, Reggio Emilia, e profondità 6 km. Non si segnalano danni a edifici e non risultano persone ferite, al momento, anche se ci sono state tantissime chiamate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Anche se non sembrano esserci conseguenze, il terremoto di oggi ha risvegliato la paura in una zona, che quasi dieci anni fa, fu duramente colpita da un sisma che provocò morti e danni. Grazie. Grazie.